Cosa sta preparando? Stiamo preparando i corsetti della brinca. Cos'è un primo piatto? È un primo piatto, sì. E si tratta di pasta? Di pasta con i funghi. Viene buttata dentro questa pasta. Questi sono i corsetti. Che sono i corsetti? Fatti con grano locale, grano tosella e grano duro e integrale. Dopo pochi minuti? Circa 5 minuti. 5 minuti di cottura. Adesso li andiamo a impiattare. Come li condiamo i corsetti? I corsetti con il sugo di fungo. Con il sugo di fungo. Questo è un sugo di fungo misto, porcini e altri funghi serbatici. Adagiamo sopra i corsetti. Facciamo a strada. Come se fosse una piccola lasagna. Una piccola lasagna, però fatta con lo stampo. Con lo stampo. Con lo stampo. Ecco. Lo stampo e legno. Un altro strato di fungo. Di funghi vari. Di questi funghi in bianco, diciamo. Come, allora, delle noci, grattugiate. Un momentino metto ancora un po' di... Questa è la polvere magica. È una polvere magica. La polvere nera, di bosco, con le trombette. Con le trombette essiccate. Ti viene detto volgarmente come questo? Questo viene chiamato volgarmente il tartufo dei poveri. Il tartufo dei poveri. Mettiamo il tartufo, diciamo, come una ciliegina sulla torta. Allora, ecco. Ancora un po' di noci. Noci. E il tartufo dei poveri. Ancora il tartufo, diciamo, del tartufo povero. Che tampo lì? Di colore. Di colore e di profumo. Mettiamo il prezzemolo. Il prezzemolo per guarnire. Questo piatto è stato preparato da... Franca, Roberto, Trattoria della Brinca. Di Campo di Nè. Di Campo di Nè.